Già a metà degli anni 80 ci si è resi conto che 640k di RAM iniziavano a stare stretti. Ma come fare per utilizzare una quantità maggiore di memoria, mantenendo la compatibilità con tutte le applicazioni DOS scritte fino ad allora? Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Nel 1983 esce la prima killer app per PC, il foglio di calcolo Lotus 1.2.3, che è l'antenato degli attuali LibreOffice Calc e Microsoft Excel. Negli anni 80 se avevi un PC avevi Lotus 1.2.3. Fatto sta che se iniziavi a fare foglie di calcolo di una certa complessità, ecco che 644k di RAM iniziavano a non bastare più. Ma come fare per utilizzare una quantità maggiore di memoria se il microprocessore indirizza solo fino a un megabyte? Nel 1985 proprio Lotus assieme a Intel e Microsoft trovano assieme una soluzione e nasce così la memoria espansa, detta anche EMS. Si tratta di una scheda di memoria che contiene dell'hardware aggiuntivo per fare il cosiddetto bank switching e funziona in questo modo. Si riserva nell'area di memoria accessibile alla CPU un'area di 64k chiamata frame buffer. Poi si dice all'hardware di mappare nel frame buffer una determinata area di questa memoria esterna. In questo modo possiamo avere a nostra disposizione quantità di RAM che possono arrivare fino a 32 megabyte, anche se mediamente queste schede erano da 2 megabyte. Con lo svantaggio però che possiamo solo vedere 64k alla volta di questa memoria. Questa soluzione non era ottimale, ma per capire le ragioni dietro le soluzioni successive dobbiamo fare prima una carrellata su alcune CPU Intel, più un AMD come bonus. 1978. Esce la CPU Intel 8086, che ha un'architettura a 16 bit e può indirizzare fino a 1 megabyte di memoria. Questa è la CPU che dà il nome all'architettura x86 usata tutt'oggi. E' anche la CPU usata dai cloni dei PC BM più performanti, come l'Olivetti M24. 1979. Esce la CPU Intel 8088, che è identica all'8086, ma ha un basso esterno a 8 bit anziché 16. Questo da un lato degrada notevolmente le prestazioni, perché a parità di frequenza accedi a metà della memoria nello stesso tempo. Ma dall'altro riduce i costi e semplifica le connessioni hardware. Se ti ricordi dallo scorso video, è questa la CPU utilizzata dal PC IBM. 1982. Esce la CPU Intel 80286, o più semplicemente detta 286. Rimane una CPU a 16 bit, ma questa volta può indirizzare fino a 16 megabyte di memoria. Perfetto. Quindi basta fare un computer dotato di processori 286 e posso superare il limite dei 640k di RAM senza problemi, vero? Beh, non proprio. Perché per mantenere la compatibilità con tutti i software scritti per 8086 e 8088, Intel ha dovuto far sì che all'accensione il 286 si comportasse esattamente come un 8086, quindi con al massimo un megabyte di memoria indirizzabile. E questa modalità di funzionamento viene chiamata RealMod. Per poter usufruire di più di un megabyte di memoria, occorre portare il processore in Protected Mode, una modalità di funzionamento incompatibile con i software scritti per RealMod. Enorme problema di questo microprocessore è che una volta entrato in Protected Mode, non c'è modo per farlo tornare in RealMod se non riavviando tutto. E indovina qual è il software che funziona in RealMod? Esatto, MS-DOS e tutti i software scritti per esso. Quindi, di fatto, il 286 veniva utilizzato semplicemente come un 8086 più veloce, ma sempre con il limite di un megabyte indirizzabile. 1985. Esce la CPU Intel 80386, o più semplicemente detta 386. È il primo microprocessore a 32-bit con architettura x86 ed è in grado di indirizzare fino a 4 giga di memoria. Come per il 286, anche il 386 parte in RealMod, supportando appieno tutti i software scritti per il RealMod, sempre però con il limite di un megabyte indirizzabile. In Protected Mode è possibile scatenare la potenza del 386, facendo operazioni a 32-bit e indirizzando fino a 4 giga di memoria. E questa volta, imparando dagli errori del 286, è possibile passare da Protected Mode a RealMod senza problemi. Questa caratteristica rende possibile superare la barriera dei 640K sotto DOS in due modi che vedremo nel prossimo video. Oltre che a RealMod e Protected Mode, il 386 ha anche una terza modalità di funzionamento, chiamata Virtuality 86 Mode, che permette l'esecuzione di software scritti per RealMod mappando della memoria virtuale. Questa modalità viene utilizzata dai sistemi operativi OS2 e Windows 95 per eseguire contemporaneamente più software scritti per DOS in multitasking. 1988. Esce la CPU Intel 386 SX. La CPU Intel 80386 conosciuta fino ad allora viene rinominata in 386 DX. Come è successo per l'8088, il 386 SX è semplicemente un 386 DX. però con basso esterno a 16 bit per ridurre i costi. Con questa panoramica vediamo che negli anni 80 la fascia bassa di mercato era composta da 8088, 8086 e 286. Mentre la fascia alta era composta dai 386. Tutte le CPU successive al 386 non hanno apportato stravolgenti novità all'architettura X86 fino al 2003, quando AMD fa uscire il processore Opteron. La prima CPU con l'architettura X86 a 64 bit. Architettura usata tutt'oggi nel processore che hai nel tuo PC in questo momento. Oltre a tutte le modalità di funzionamento del 386, questa architettura ha anche una modalità chiamata Long Mode che permette di sfruttare i registri e l'indirizzamento a 64 bit con compatibilità a software scritti per Protected Mode. Ma attenzione, non compatibile con software scritti per Real Mode. Ed è per questo che se utilizzi Windows a 64 bit non puoi più eseguire nativamente programmi per DOS e per Windows a 16 bit. Nei prossimi video vedremo un modo di sfruttare tutti i 16 MB indirizzabili del 286 sotto DOS, cosa teoricamente impossibile. Come pure due metodi per superare i limiti dei 640K di RAM per i 386. Infine vedremo le varie strategie per liberare al massimo questa preziosa parte di memoria. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao.